Annuncia e sei tentativi di afferrare la farfallina? Vabbè ora non la sta afferrando, sta afferrando il culo di sotto della farfallona Ah, non ci dobbiamo fare il culo alla farfalla! Piccola paniaca! Annuncia! Annuncia! Si strada a me che parla, non ha chiappa niente Eh 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 eh! Chiappa, ha chiappa, ha chiappa Willy! Ehi, come guarda l'orzetto! Ciao, ciao Annuncia! Ah no, ha chiappa la farfallina! Guarda, guarda, guarda che ha chiappa la farfallina! Brava, brava Annuncia! Brava! Ma guardi mamma! No, ha chiappa bene, brava! Lo dovrebbe fare a quattro mesi già, tre mesi, dici giorni lo fa Tre mesi, nove giorni! Ciao amori, ciao! Brava, brava! Ciao! Grazie a tutti.